Benvenuti in Gruen. Il marchio di orologi Gruen è sinonimo di tradizione e innovazione, grazie alla sua storia che risale a lontano 1874. Fondato dai fratelli Fred e George Gruen a Columbus, Ohio, negli Stati Uniti, l'azienda è stata una delle prime ad utilizzare la produzione in serie per creare orologi di alta qualità. Grazie alla loro attenzione ai dettagli e alla precisione, gli orologi Gruen hanno guadagnato una reputazione internazionale e sono stati apprezzati da appassionati di orologi in tutto il mondo. Inoltre, Gruen è stata una delle prime aziende a creare orologi con movimenti automatici, che hanno eliminato la necessità di avvolgere manualmente l'orologio. Questa innovazione ha reso gli orologi Gruen ancora più convenienti e affidabili. Durante la sua storia, Gruen ha vissuto alti e bassi, e l'azienda è stata venduta e acquisita più volte. Nonostante ciò, gli orologi Gruen conservano un fascino senza tempo e sono ancora molto apprezzati dagli appassionati di orologi in tutto il mondo. Oggi il marchio Gruen non è più attivo nella produzione di orologi, ma gli orologi vintage Gruen sono ancora molto ricercati e apprezzati. Grazie alla loro qualità, alla loro precisione e al loro design innovativo, gli orologi Gruen continuano ad ispirare gli appassionati di orologi di tutto il mondo.